Ritardi e disservizi affliggono ormai da anni le ferrovie. La stazione di Fiumefreddo è una delle tante fermate in cui il ritardo è l'unica cosa puntuale. A protestare sono in primis i pendolari, cioè coloro i quali per raggiungere il posto di lavoro devono spostarsi quotidianamente in treno. Il servizio di Rita Patanè. Anche questa sera alla stazione di Fiumefreddo di Sicilia si registrano cospicui ritardi sui treni regionali. Il coordinatore del comitato pendolari siciliani, Giosuè Malaponti, ha spiegato ai nostri microfoni quali sono stati i passi compiuti fino ad oggi e quali saranno quelli futuri. Ormai è consuetudine, ci stanno quasi quasi abituando a non lamentarci più e a far diventare ormai i casi estremi normalità. Possiamo capire i disservizi dovuti al maltempo la settimana scorsa, possiamo capire che un mezzo si guasti, possiamo capire che si abbiano dei problemi all'infrastruttura ferroviaria, ma non è ormai concepibile subire questi disservizi e questi disagi, specialmente con i primi treni del mattino fra le 6 e le 9. Su questo invitiamo tutti i pendolari a far fronte a mandare un'email o alla regione, all'assessorato regionale dei trasporti, perché è da gennaio di quest'anno che la competenza del trasporto ferroviario ormai è assunto dalla regione. Quindi è inutile mandare reclami a Trenitalia perché poco importa, ti risponderanno fra 30 giorni, così come previsto dal regolamento, ma rammaricati sicuramente o per un fattore di infrastruttura o per fattori di altre situazioni, non risolvono il problema. È il momento, nell'occasione in cui la regione sicuramente a fine mese o ai primi di novembre firmerà definitivamente il contratto di servizio, iniziare a porre questi quesiti, queste lamentele, questi reclami alla regione affinché quantomeno inizi a rivedere quelle che sono le penalità, perché nessuno li conosce, di questo nuovo contratto di servizio, le confronti di Trenitalia per ottimizzare al meglio il trasporto pubblico ferroviario e renderla efficiente ed efficace.